Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo young e adult, ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui l'era dell'anarchia sembrava destinata a durare all'infinito. Tuttavia, improvvisamente, sorge la speranza rappresentata dai rinnegati, identità segrete, poteri straordinari, una storia di supereroi, nemici, vendetta e amore proibito. La narrazione offre un messaggio di fiducia nel futuro e coraggio nell'affrontare le sfide, il che può essere ispirante per i giovani lettori. La trama del libro Renegades Identità Segrete volume 1 della scrittrice Marissa Meyer, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. L'era dell'anarchia avrebbe potuto proseguire all'infinito, poi quasi all'improvviso la speranza, la speranza che risplendeva luminosa, vestita con mantelli e maschere, la speranza bellissima e piena di gioia, che prometteva di risolvere tutti i problemi, di trafiggere i nemici con la spada della giustizia, la speranza che prendeva il nome di rinnegati. Sono passati ormai dieci anni, da quando i rinnegati, un gruppo di giovanissimi prodigi, uomini e donne dotati di poteri straordinari, decisero di usare le loro capacità per contrastare il caos generato dal governo degli anarchici su Gatalon City e riportare ovunque pace e stabilità. Da quel momento i rinnegati sono diventati per tutti i paladini della giustizia, un simbolo vivente di fiducia nel futuro e coraggio per tutti, tranno ovviamente per gli anarchici superstiti, che a loro volta dotati di poteri sono fuggiti dalla città e per anni di nascosto, hanno cercato di riorganizzarsi per portare a compimento il progetto originale del loro defunto leader Ace. Tra loro adesso c'è anche Nova, la nipote diciassettenne dell'uomo. Lei stessa è un prodigio, è affamata di vendetta e pronta a tutto pur di ottenerla, anche a partecipare a un'operazione di infiltrazione tra le file nemiche. L'incontro con Adrian, un rinnegato dall'animo ribelle che crede fermamente nella giustizia però, potrebbe rischiare di sconvolgere i suoi piani. A un passo dalla grande battaglia che attende rinnegati anarchici, i sentimenti infatti possono diventare un nemico spietato. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.